La scadenza per la presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili non cambia e rimane fissata al 30 settembre del 2022, ma sino al 31 marzo 2023 i richiedenti potranno continuare a caricare la documentazione minima sull'applicazione Sportello Digitale dell'Ufficio Speciale. La notizia è sulla circolare dell'USRC, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, che cerca in questa maniera di andare incontro alle richieste degli ordini professionali avanzate nei mesi scorsi, anche e soprattutto dopo l'adeguamento del contributo a causa del caro materiali, che intanto ha risolto un bel problema. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Pierluigi De Amicis aveva più volte lanciato questo allarme. Dopo la riunione col tavolo di coordinamento dei sindaci e le varie occasioni di dibattito dei mesi scorsi, si è deciso così di definire un avviso per specificare appunto che la scadenza rimane tale, ma che ci sarà quest'altra possibilità. E l'Ordine degli Ingegneri ha mandato già una newsletter a tutti gli iscritti illustrando la novità. È possibile presentare le domande di contributo molto semplificate ai Comuni in attesa poi di produrre l'adumentazione tecnica. Con questo si ritiene assolto quello che è l'obbligo della presentazione delle domande qui nella scadenza il 30 settembre, perché tutto sommato vi è una manifestazione di interesse da parte di proprietari di voler realmente procedere con la ricostruzione degli immobili, con il rivisto della loro agibilità e vi è anche una minima quantizzazione delle spese necessarie. Certo vi servono ancora problemi da dover risolvere quantizzazione delle spese, ancora non abbiamo i decreti attuativi per il caro prezzo e quindi saranno successibili di aumenti, speriamo, nel breve. Così come deve essere ancora risolto l'altro problema e questo incremento del contributo attualmente con gli emendamenti passati non è previsto per chi immobile al di fuori del piano di ricostruzione. Quindi vuol dire che al di là di una linea non vi sono incrementi, quindi al di là di quella linea non vi sono incrementi, si creerebbero delle situazioni non eque e questo continuerebbe a rallentare la ricostruzione che ha ancora bisogno di qualche spinta perché ce n'è ancora tanta da fare. La ricostruzione non è ancora completa e vogliamo che sia completata il più presto possibile.